ciao ragazzi benvenuti al parchetto del tagliagole oggi ragazzi volevo parlare con voi di un argomento secondo me da chiarire un pochino da chiarire una delle domande che mi fate più spesso e che leggo anche più spesso nei vari gruppi facebook di coltelli ovviamente è puoi scegliere un solo coltello quale porti ragazzi non siamo tutti esperti ci sono tantissimi tantissimi neofiti che mi scrivono anche quindi secondo me questa domanda è un attimino da inquadrare e da chiarire andiamo a farci una bella chiacchierata insieme eccoci qua ragazzi pronti a farci questa bella chiacchierata insieme la domanda puoi portare un solo coltello quale scegli solamente uno la domanda detta così secondo me è orfana di tanti fattori fondamentali che bisogna sapere per poter scegliere il coltello giusto ragazzi piuttosto che fare questa domanda potreste tranquillamente chiedere qual è il tuo coltello da outdoor preferito perché senza sapere determinati punti è impossibile secondo me scegliere il tipo di coltello che ci occorrerà nella nostra uscita nel nostro campo nella nostra avventura vediamo un attimino questi punti primo punto dove viene fatta questa uscita questo campo questa avventura ragazzi se faccio un giro sulle sui nostri monti o vado nella tundra o vado nella foresta vietnamita oppure c'è l'apocalisse zombie capite benissimo che la situazione cambia completamente quindi il coltello cambia quindi prima cosa da individuare quando fate questa domanda quando la scrivete nei gruppi per avere ovviamente delle risposte per capire gli altri cosa pensano e ragazzi prima di tutto individuare dove viene fatta questa uscita questa avventura questo campo quello che volete ma dove ok seconda cosa per quanto tempo perché è fondamentale se vado a farmi prendiamo anche uno scenario tranquillissimo i nostri monti se vado a farmi un trekking di un giorno avrò bisogno una cosa se invece vado a farmi un campo di tre giorni sempre sui nostri monti avrò bisogno un'altra cosa se ragazzi nei monti ci devo stare un mese perché mi faccio un percorso itinerante sulle dolomiti facciamo questo esempio mi servirà un'altra cosa ancora quindi prima di tutto ragazzi dove e seconda cosa quanto tempo perché è fondamentale terzo fattore in quanti siete perché ragazzi è fondamentale capire questa cosa se sei se sei da solo è un discorso siete in due potete dividervi gli equipaggiamenti siete in tre ragazzi si divide ancora meglio se siete in una decina potete decidere tranquillamente che uno porta una cosa uno l'altra uno l'altro uno l'altra cioè la scelta dipende veramente da tanti fattori quanti siete secondo me è un fattore determinante ragazzi io non mi sono portato l'accetta quando abbiamo fatto l'uscita con ramon perché sapevo benissimo che la portava ramon non mi serviva a portare un doppione dell'accetta ok quindi mi sono concentrato sul cortelli però ragazzi è fondamentale secondo me capire anche in quanti siete quindi dove per quanto tempo e in quanti siete detto questo l'equipaggiamento ragazzi che equipaggiamento portate perché la scelta del coltello voi chiedete il coltello però la scelta del coltello è molto legata all'equipaggiamento se nell'equipaggiamento io ho di più persone che vengono con me in questa uscita in questo capo in questa avventura c'è già chi si porta l'accetta chi si porta il seghetto chi si porta la motosega chi si porta i raggi laser di mazinga ragazzi posso scegliere in base a l'equipaggiamento reale che avremo nell'uscita se sono da solo anche lì posso decidere in base a quello che mi metto nello zaino o accetta il seghetto mi porto questo non ho niente solo il coltello perché voglio portare solo il coltello avrò un'altra scelta ragazzi una cosa fondamentale che vi dico allora prima ripassiamo i quattro punti dove per quanto tempo in quanti e che equipaggiamento avete dopo questi quattro punti ragazzi è il punto più importante in assoluto ed è proprio il fulcro di questo video l'esperienza ragazzi che esperienza avete perché in base a che esperienza avete sia di uscite outdoor che di coltelli secondo me vi si può consigliare nel modo ottimale vi faccio un esempio qui abbiamo l'ornet ragazzi di luca donati coltellone ragazzi che io ho portato adesso per farvi vedere il coltello che mi porterei in un'uscita anche di più giorni senza accetta e seghetto io mi porterei l'ornet di luca perché perché è in k7 20 lo riaffiro al volo quindi se perde il filo sul campo ragazzi non dico con la pietra di fiume però con una dc4 normalissima in un secondo è a rasoio una stroppatina a rasoio perché di luca ne ho provati tantissimi qualità altissima tagliente infinito perché è una dimensione giusta è una dimensione giusta se devo parlare di uscita e non di andare a provare coltelli è inutile che porto roba enorme roba più grossa roba che mi dà solamente peso facciamo un'uscita con gli amici tranquilla un campo qui sui nostri monti devo provarmi dei coltelli tutti gli altri portano a certa seghetto coltellini e tutto mi porto quello che voglio ma se devo farmi ragazzi devo parlare in modo serio da persona che vive l'outdoor si fa i suoi giri si fa i suoi campi questo è un coltello ragazzi che per peso dimensione non vi costa niente da portare in cintura ricordatevi che tutto l'equipaggiamento pesa ragazzi per dimensione super maneggevole tagliente da paura ci fate i dicionini finissimi potete processare il cibo ragazzi potete fare tutto con i taglienti di luca tagliente infinito infinito luca donati numero uno taglienti numero uno in italia continua a rivirlo nel nel shopping viaggia alla grande ragazzi spacca di brutto batonin col suo spessore non ha problemi è un coltello che anche se non mi porto accetta e seghetto e decido così perché io voglio decidere così è un coltello che mi rende sicuro però è un coltello che consiglierei a un neofita assolutamente no assolutamente no perché è un coltello che bisogna prima di tutto capire come usarlo dove farlo impattare come tenerlo è un coltello con un tagliente ad esse quindi comunque ragazzi non è così facilissimo da riaffilare è un coltello tra virgolette tutti i coltelli sono pericolosi però questo di donati se vi scappa un attimo e non lo sapete fare di zanzate via un bel ditone poi tagliato via il ditone può capitare a tutti ovviamente ragazzi però questo è laser vero qua se vi scappa questo coltello mentre ci lavorate vi fate veramente male poi siete isolati sui monti o soccorso con l'elicottero che pagate oppure ragazzi restate lì e sperate in dio ripeto è un coltello secondo me non da neofita ragazzi non è un coltello da neofita quindi io me lo porterei per le mie uscite ma non lo consiglierei a un neofita questa cosa è molto 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 importante ragazzi per i neofiti secondo me la cosa principale da chiarire è che non è il coltello che fa la differenza siete voi che fate la differenza voi le vostre nozioni outdoor prima delle vostre nozioni con il coltello di come sapete usare il coltello perché il coltello è parte dell'equipaggiamento ma non è la prima parte dell'equipaggiamento assolutamente no fa parte dell'equipaggiamento poi noi siamo malati di coltelli sono d'accordissimo con voi perché altrimenti non sareste qui a sentire me ragazzi ma sareste in giardino a raccogliere le margheritine con le chiappe ragazzi a noi i coltelli ci piacciono quindi diventa una parte fondamentale ma nella vita reale il coltello non è la parte fondamentale dell'equipaggiamento ragazzi il mio consiglio è per chi inizia per chi si approccia a questo mondo per i neofiti portatevi un bel seghetto ragazzi poi qui abbiamo adesso eccolo qua f1 di fornire piccolino taglia f1 x ragazzi taglia bene batoni ha un bello spessore lo fa tranquillamente ha un bel taglio pulitissimo sicuramente ragazzi essendo un convex non è facilissimo da riaffilare a campo però ragazzi io ne ho provati praticamente tutti quelli in costa la fornire e hanno una resistenza al filo incredibile dovete giusto prendere un sasso però se prendete un sasso cippate un pezzettino di lama non è che il coltello non funziona più e non taglia più fino quando tornate a casa perciò secondo me seghetto ragazzi e coltellino le prime uscite coltello di questa dimensione le prime uscite le fate tranquillamente senza vedere roba più grossa iniziate a prendere confidenza col coltellino piccolo vi fa male anche lui se vi scappa ragazzi però se vi scappa questo se vi scappa questo ragazzi è pesante cioè andiamo incontro a danni seri ragazzi se vi scappa questo coltello un coltellino così piccolo ne limita anche il campo d'azione sicuramente shopping con questo non lo fa nessuno e non lo fate perché è una stronzata però ragazzi nel shopping dove si rischia di farsi più male il coltellino ovviamente può tagliarvi il ditino però ve lo medicate col nastro americano o col nastro isolante ragazzi portatevelo sempre quindi il mio consiglio è se siete dei neofi siete le prime armi portatevi un bel coltellino tranquillo ok un bel coltellino tranquillo ovviamente inerente al mondo outdoor non portate un combat che non serve a niente con il vostro bel seghetto se sei ancora così indeciso tagliente mica tagliente convex io non lo so affilare benissimo non ti portare un convex ti porti tranquillamente un coltellino ancora più piccolo ragazzi jg3 della easy una bomba una vera bomba esce la recensione a brevissimo ragazzi non ho preso il solito rook perché ragazzi poi mi dite che prendo sempre quello però sono un neofita vado nel bosco a fare il mio trekking sto via anche una notte ragazzi con questo un accetta e un seghetto vi fate tutto ok vi fate tutto l'accetta vi serve perché mentre con il f1 della f1x batonate tranquillamente i tronchetti col jg3 ragazzi si li batonate però non è il suo lo fa lo fa tranquillamente però secondo me con un accetta e un seghettino ragazzi andate via tranquillamente in più il tagliente è fletta quindi non è come se potete andare ad affilarlo tranquillamente più facile al suo bel foderino ragazzi parliamoci chiaro il coltello è parte dell'equipaggiamento siete voi che fate la differenza in outdoor spigolo vivo il fuoco parte subito però anche lì portatevi l'accendino fate molto prima certo in emergenza con questo il fuoco lo accendete in un secondo uno spigolo vivo assoluto ripeto lo vedremo in recensione ragazzi è un coltellino piccolo però non pensate che nelle uscite ma di un giorno un coltellino di un giorno ma se andate via anche due o tre giorni con una certa seghetto questo basta e avanza ragazzi non pensate veramente a scenari allucinanti stiamo parlando di robe che succedono qua ovvio parliamo di apocalisse zombie è un'altra cosa foresta vietnamita è un'altra cosa però se parliamo in termini reali di quello che dobbiamo fare noi qua ragazzi questo basta e avanza è un coltello veramente bomba in mano anche perché non vi scappa vi da un controllo esagerato se parliamo di chiudibili sinceramente se devo scegliere un coltello solo non me lo porterei un chiudibile sceglierei sicuramente un fisso ma io ti costringo a scegliere un chiudibile se mi costringe a scegliere un chiudibile io vado di bf2 di estrema razio per quale motivo perché l'ho testato la morte l'ho usato tanto ci ho batonato ci ho pestato sopra batonico orizzontale baton in diagonale punte ricciolini botte punta da tutte le parti ragazzi per me adesso adesso tra quelli provati è quello che mi porterei perché perché mi dà affidabilità è un coltello che secondo me anche qua accetta il seghetto questo coltello ragazzi mi dà affidabilità quindi è il coltello che mi porterei se mi obbligassero a scegliere un chiudibile sennò la mia scelta sarebbe comunque su un fisso se potessi scegliere un solo coltello però ricordatevi ragazzi ricordatevi sempre dove andate quanto tempo dovete starci le quanti siete e l'equipaggiamento che avete perché è da quello ragazzi che poi si decide che coltello portare la domanda messa che coltello puoi portare puoi portare uno solo scegli ne uno senza specificare questi quattro punti secondo me non ha senso a sto punto come ho detto all'inizio chiedete tranquillamente qual è il tuo coltello da outdoor preferito e poi ragazzi l'esperienza ricordatevi che il coltello è parte dell'equipaggiamento non la parte fondamentale assolutamente ma è parte dell'equipaggiamento ma la differenza la fate sempre sempre voi potete avere il coltello più bello del mondo e non saperlo usare potete avere il coltello più prestante del mondo e della vita outdoor non sapere nulla ragazzi non ve ne fate assolutamente niente quindi sempre piedi per terra ragazzi mi raccomando mi raccomando mi raccomando perché tanta gente tanta gente si perde e alcuni finiscono male muoiono nei nostri boschi ragazzi nei nostri boschi sui nostri monti senza andare a cercare scenari nella tundra in vietnam sotto il mare sul pianeta dei marziani o ragazzi nell'apocalisse zombie ragazzi spero di avervi fatto un pochino di chiarezza su questa domanda come porla al meglio dai coltelli che io mi porterei ma sono i primi che ho scelto ragazzi giusto per farvi vedere la tipologia e la dimensione dal parchetto del tagliagole tutto buona giornata e ciao